Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Una serie di sistemi frontali interessa l'arco alpino, mentre sulla Liguria un minimo oro grafico favorisce addensamenti di nubi basse. Sabato nubi in aumento con piogge diffuse e rovesci dal pomeriggio, specie sul centro Levante e domenica residui fenomeni a Levante nelle prime ore schiarite da Ponente. Il dettaglio, oggi giovedì 28 gennaio, nuvolosità diffusa a causa di correnti umide meridionali nei bassi strati, pilotate da un minimo di pressione di origine oro grafica sul Ligure. Non si escludono locali piovaschi, specie in serata, nubi più irregolari sull'estremo Ponente con locali schiarite, venti deboli variabili in rotazione da nord-est a Ponente con locali rinforzi pomeridiani, da est su dest deboli o moderati, sul centro Levante con rinforzi sui rilievi. Mare in aumento a mosso, localmente molto mosso in serata Levante, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 10 e 12 gradi nelle zone interne entorno 8-9 gradi. Domani venerdì 29 gennaio al mattino ancora nubi diffuse con possibili deboli isolati piovaschi sul centro Levante, soleggiato sull'estremo Ponente. Dal pomeriggio ingresso di correnti più secche settentrionali con ampie schiarite in estensione verso Levante. Venti al mattino deboli o moderati in rotazione ciclonica con rinforzi meridionali sui rilievi. Dal pomeriggio rotazione rinforza da ovest-nord-ovest sui rilievi e versanti padani in locale estensione alla costa imperiese e savonese in serata. Mare in aumento a molto mosso per onda di Libeccio, agitato a largo. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 7 e 9 gradi nelle zone interne tra 3 e 5 gradi. Anche le massime saranno in aumento sensibile in quota e sui versanti padani per effetto favonico più localmente sulla costa in particolare a Ponente. Lungo la costa sono attese massime tra 14 e 16 gradi, nell'interno generalmente tra 14 e 17 gradi anche in questo caso. Dopodomani, sabato 30 gennaio, l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un rapido aumento della nuvolosità in mattinata fino a cielo coperto, con precipitazioni dal pomeriggio anche a carattere di rovescio temporale più diffuse e insistenti sul centro a Levante. Quota neve in calo in serata fino a 600-800 metri. Venti inizialmente deboli o moderati, in rotazione ciclonica tendenti a rinforzare da sud-est a Levante, in serata rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali a partire da Ponente. Mare molto mosso a Levante tramosso e molto mosso a Ponente. Temperature minime stazionari e lungo la costa tra 6-8 gradi nelle zone interne intorno 3-4 gradi. Massime in diminuzione e lungo la costa intorno a 13-14 gradi nelle zone interne tra 10-12 gradi. È tutto, seguiti gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'Agenzia. Risentirci!